Riccione Bike Hotels, 10 semplici istruzioni per l'uso. Ricorda sempre di depilarti. Indossa sempre un abbigliamento adeguato. Allaccia sempre il casco giusto. Segui i consigli della tua guida bike e del Bike Tutor. Porta con te il GPS. Le ragazze sempre in testa al gruppo. Sei stanco? Ti veniamo a prendere noi. A rientro concediti un pasto completo e ricco. La bici è la tua migliore amica. E infine lasciati andare a relax con un bel massaggio. Riccione Bike Hotels va consumato preferibilmente nei mesi da marzo a maggio e da settembre a ottobre. Leggere attettamente le istruzioni su www.riccionebikehotels.it L'uso prolungato può causare una positiva dipendenza.